Buonasera a tutti, allora anche se pochi minuti a noi piace essere puntuali. A proposito della settimana scientifica, praticamente abbiamo un saluto da parte dell'amministrazione attraverso l'assessore Martina Laghi, a cui do la parola, per mezz'ora può parlare. No, meno? Allora solo tre minuti. Grazie Bruno, buonasera a tutti. Per me è sempre un piacere accompagnare le iniziative di Palestra della Scienza, in particolare della settimana scientifica. Eravamo qui anche l'anno scorso, dopo il periodo del Covid, insomma sono ripartite un po' tutte le iniziative e se avete visto il Deplian con tutte le proposte, sono veramente settimane tra marzo fino anche maggio ricchissime di iniziative. A Faenza abbiamo la fortuna, dico la fortuna perché ci sono tantissime realtà, associazioni che si dedicano in tanti ambiti ma tutte hanno il luogo comune della scienza. E coordinate appunto da palestra della scienza, da tantissimi ex insegnanti, ex docenti appassionati che mettono ancora a loro disposizione, magari sono passati dalle attività di insegnamento a un'attività di divulgazione, di sensibilizzazione, di confronto con tutte le realtà anche del territorio. Io ringrazio anche la presenza stasera del professor Ciardi, mi diceva fino al 2021 è stato all'Università di Bologna, quindi diciamo è stato nostro, no? Ci sentiamo Emiliani Romagnoli, quindi il poter riuscire anche a fare queste serate con dei professionisti, dei professori, delle eccellenze nel campo scientifico, io penso che sia veramente una bellissima cosa, di cui ne andiamo molto fieri come amministrazione, sono veramente molto orgogliosa di poter dire e affiancare queste associazioni e palestra della scienza. Quindi grazie, basta, sono stata anche troppo lunga, buona serata e ci vediamo alle prossime serate. Bene, grazie Martina, lascio la parola a Stefano, il quale ci presenterà appunto Marco Ciardi, che è ospite con noi per questa serata assieme all'iniziativa della Settimana Scientifica. Allora, presento il professor Marco Ciardi, brevissimamente, sì perché vogliamo iniziare con queste presentazioni, Allora, come abbiamo già detto, è stato fino a qualche anno fa professore di storia della scienza a Bologna, adesso è a Firenze, ordinario di storia della scienza a Firenze, è da sempre che si occupa di pensiero scientifico, quindi di sviluppo del pensiero scientifico nella storia moderna e contemporanea, in relazione anche a altri tipi di pensiero, quindi alla filosofia, al pensiero magico anche, al pensiero delle pseudoscienze, di cui parliamo questa sera, e ha pubblicato su questo moltissimi volumi, insomma sulla storia della scienza ovviamente, per esempio sull'alchimia, o su, ecco, per esempio qui ho due volumi che troverete dopo anche all'uscita, chi vuole comprarli, sulla tavola periodica, il segreto degli elementi, uno molto più recente di due anni fa è sulle pseudoscienze, uno recentissimo sul mito di Atlantide, per esempio, e quello di cui ci parlerà stasera sono il rapporto tra scienza e pseudoscienze. Lui si è occupato molto anche di divulgazione e di comunicazione della scienza, questione anche immersa in maniera molto evidente negli anni precedenti, insomma, negli scorsi anni, nella pandemia in cui le pseudoscienze e la comunicazione della scienza sono state anche al centro proprio dell'interesse, dei media stessi, perché con tutti i problemi connessi al modo sbagliato anche di comunicare la scienza e all'emergere di tantissime teorie pseudoscientifiche. Questo quindi è quello di cui, insomma, su questi aspetti, proprio di tipo anche filosofico, insomma, si occupa e si è occupato e di questo ci parlerà stasera. Due soli accenni pop, diciamo, popolari sulla cinema recente, due film, per esempio, mi veniva in mente Don Lucap, che forse molti hanno visto, insomma, sulla comunicazione errata della scienza, Don Lucap su un asteroide, un meteorite che deve cadere sulla Terra con DiCaprio, eccetera. Un altro, quello lì è un modo in cui si delinea, insomma, ma abbastanza anche grottescamente, come non si comunica la scienza probabilmente, un altro, un documentario che c'è stato su Netflix fino a poco tempo fa sui terapiatisti, cioè che cercava di, intervistando in maniera anche molto senza pregiudizi, insomma, alcuni terapiatisti e cercava di entrare un po' nel ragionamento e la logica, ecco, di queste teorie. Che ovviamente non hanno fondamento scientifico, però rispondono probabilmente a qualche esigenza di qualche tipo, insomma, nelle persone che le sostengono. Bene, insomma, stasera parlerà lui, non c'è purtroppo Paolo Magliocco che lo intervista, quindi saremo noi, anche liberamente, credo, a poterlo interrompere per far domande, anche durante la presentazione. Bene, non credo che ci sia altro da aggiungere. E quindi lascio la parola al professor Marco Ciardi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie alla palestra della scienza per l'invito. La città di Faenza, perché è sempre un piacere, anche se, insomma, conoscevo, ma, insomma, tornarci è sempre un piacere. e ora, appunto, questo doveva essere un incontro, dialogo con Paolo Magliocco, e invece adesso mi organizzo in maniera tale che gestisco io, diciamo, la serata, ma, appunto, come è stato detto adesso, non vi fate problemi nell'intervenire, anche mentre parlo, se avete delle curiosità, delle domande, dubbi, critiche, qualsiasi cosa. anche se non credo ci siano dei terrapiattisti qua, però potrebbe essere, diventerebbe più interessante anche il colloquio, perché in linea di principio, appunto, il pensiero scientifico prevede che si debbano valutare tutte le ipotesi e tutte le circostanze senza prelusione alcuna, quindi cercheremo anche di interrogarci su questo. Sono le 21.23, io non so, perché in genere ho, appunto, qui ho una presentazione, tra l'altro anche con delle cose interattive, non sono proprio dei test, ma, insomma, sono delle cose carine. Nella seconda parte, se vado troppo in là con i tempi, appunto, mi interrompete senza problemi. Io partirei da, intanto ci tengo a ricordare che io sono di formazione storico-filosofica, ecco, quindi non sono uno scienziato. Sono laureato, appunto, in filosofia, poi ho fatto un dottorato in storia della scienza, ovviamente andando avanti con il percorso di studi, poi già ai tempi della tesi, che era sulla nascita della teoria atomica, ovviamente ho iniziato a fare anche il mio percorso di studio scientifico, insomma. Anche se questo mi permette di dire subito una cosa, secondo me importante, che forse magari vi potrà rincuorare molti di voi, è che per capire la scienza non c'è bisogno di essere scienziati. Io partirei subito da questa cosa molto importante. E siccome qua so che fra di voi ci sono tanti anche insegnanti o ex insegnanti che vengono dalle discipline scientifiche, così almeno ci divertiamo un po' e facciamo un po' di interazione di quella vivace, a volte può capitare che neanche lo scienziato davvero capisce che cos'è la scienza. Sembra un paradosso, ma poi cercheremo di precisarlo. In che senso? Nel senso che, e qui parto subito, diciamo, da un'affermazione ricorrente di uno dei grandi grande astrofisico, divulgatore scientifico del Novecento, Carl Sagan, famoso appunto anche per i suoi libri, le sue trasmissioni come Cosmos. E a proposito di film, ecco, un film diciamo non pseudoscientifico, ma se uno vuole occuparsi un po' di extraterrestri, alieni, intelligenze di quel tipo lì, Carl Sagan ha scritto un romanzo che si chiama Contact, da cui poi è stato tratto un film di Robert Zemeckis con Judy Foster e Matthew McConaughey, veramente bello, è sul progetto SETI, insomma, però adesso non voglio appunto divagare troppo solo su questo. Più che un complesso di conoscenze, la scienza è un modo di pensare, giustamente si faceva riferimento al discorso del pensiero scientifico. Questa è una cosa importante, perché poi, nelle eventuali discussioni con chi, ad esempio, anche in relazione all'esperimento fatto prima, inizia a questionare, no, non è vero che l'abbiamo sperimentato negli ultimi due o tre anni di pandemia, discutere sul piano dei dati e delle acquisizioni tecniche non serve a niente, perché con l'interlocutore in genere c'è un dialogo che si limita a questi sono dati, la risposta è io non ci credo e di fronte a quel non ci credo noi come continuiamo dell'interazione pacifica, perché poi dopo subentrano tutta una serie di... ma è un problema. Quindi qui Carl Sagan ci sta ricordando che prima di tutto la scienza, prima di essere la chimica, la fisica, la matematica, le scienze naturali, ovviamente che hanno linguaggi, strutture, elementi, formule, tutte cose che ovviamente se uno poi vuole fare la scienza deve imparare, però per capire se noi ad esempio ci troviamo di fronte a un discorso pseudo-scientifico oppure no, non è necessario avere quelle competenze in generale, poi sullo specifico è un'altra questione. Cioè la scienza ha tutta una serie di valori, sottolineo il termine valori, perché come avrebbe detto un sociologo della scienza appunto molto famoso, cioè Max Weber, insisteva su un punto, la scienza come ogni altra forma di sapere umano ha alle spalle dei valori e quindi noi per credere nella scienza abbiamo bisogno di credere nei valori della scienza, cioè nel modo in cui funziona la scienza, perché se una persona non crede nelle modalità con cui la scienza appunto arriva a costruire un qualcosa che poi appunto non si può decidere a maggioranza, poi su questo torniamo, sul concetto di maggioranza perché visto che c'è l'assessore approfitto così mescoliamo scienza e politica che non è mai male, però appunto la velocità della luce è una costante, non si misura, io non mi alzo la mattina e decido che oggi cambio la velocità della luce perché non mi va che sia circa 300.000 km al secondo. Però qualcuno invece pensa di poterlo fare e allora bisogna un po' capire che differenza c'è tra l'aspetto del pensiero scientifico e la conoscenza tecnica. Io insisto molto su un fatto e lo ripeto qua di fronte a tutti gli insegnanti che ci sono, non è un problema dell'insegnante o della competenza dell'insegnante, cioè è una modalità che noi abbiamo, non è un problema italiano, è un problema che abbiamo tutto il mondo, in linea di massima, sto dicendo sempre in termini generali, quindi c'è sempre il caso dell'insegnante super bravo, super competente che fa anche, però in linea di massima io negli ultimi 30 anni i miei studenti che frequentano i corsi di storia, filosofia, antropologia, pedagogia, cioè tutto il mondo umanistico in genere mi dice due cose, a saprof io la matematica, no io la matematica non la capivo, cioè proprio io non sono predisposto geneticamente, cioè appunto come se ci fosse un problema di impossibilità di, e poi l'altro era, buono insomma erano tutte queste forme, tutte queste nozioni, io non capivo cosa c'era dietro, la trovavo un po' arida tutta questa cosa, no? E quindi tra l'altro arrivano nei corsi anche con dei pregiudizi nei confronti della scienza, cioè quindi c'è tutto un discorso da fare e ricostruire da questo punto di vista. Allora vediamo un attimo, siccome dobbiamo parlare un po' di scienza e pseudo scienza, qui c'è una tabella che si trova facilmente in rete, ma insomma è solo per guardare un attimo insieme, perché poi io mi soffermo su alcuni di questi punti metodologici che sostanzialmente fanno la differenza tra scienza e pseudo scienza, il problema è che però bisogna conoscervi, bisogna comprendervi, bisogna capirvi, bisogna capire quando siamo arrivati a definire la differenza tra scienza e pseudo scienza, se questa differenza è qualcosa che si è evoluta dal punto di vista storico oppure no, cioè tutta una serie di questioni che ovviamente spesso per vari motivi a scuola non si fanno. Per questo le cose che vi dirò adesso in questo tempo che c'è a disposizione, secondo me dovrebbero far parte di un discorso ampio, non limitato all'insegnamento delle discipline scientifiche, anzi per come la vedo io molto lavoro dovrebbe essere fatto nel percorso umanistico, lettere, filosofia, storia, quindi un'interazione, però il luogo ideale per le cose che vi dirò, secondo me sono le ore di educazione civica, perché sostanzialmente io interpreto il discorso e vi farò come educazione alla cittadinanza, perché questo qui non si tratta appunto di sapere bene la matematica o la fisica o la chimica. Quello è un aspetto specialistico che poi chi andrà all'università svilupperà, ma noi abbiamo bisogno che i nostri ragazzi escano dalla scuola con un'idea chiara di che cos'è la scienza, di che cos'è la pseudoscienza, la differenza tra scienza e magia e del perché è bene fidarsi di una cosa e non di un'altra. Io poi vorrei sapere anche la vostra opinione, quindi potete intervenire quando volete, ma mi sembra che a scuola di queste cose in genere non ci sia molto spazio per questo tipo di riflessioni, per una serie di motivi. Anche perché, torniamo alla pandemia, ma chi di noi presenti in questa sala era in grado di stabilire tecnicamente, di avere una conferenza tecnica sul coronavirus o su tutte le questioni tecniche di cui venivano dibattute. Sì, magari c'è qualche virologo fra di voi, ma insomma, appunto, c'è l'excezione dello specialista. E tutti noi che non siamo esperti di virologia, allora come abbiamo fatto a capire che era giusto vaccinarsi oppure no? Perché ci siamo fidati della scienza oppure no? E perché altri si sono fidati oppure no? E quindi sono tutte queste questioni in ballo, no? Ora, qua, ovviamente, queste sono alcune delle caratteristiche con cui in genere si può riconoscere la pseudoscienza perché in genere lo pseudoscienziato, appunto, ad esempio, resta sempre ancorato a tutta una serie di idee e non le mette mai in discussione. La cosa singolare è che spesso invece è la scienza essere accusata di essere dogmatica, quando è esattamente tutto il contrario di quello. Questo è un altro aspetto che non passa dall'insegnamento. Cioè, spesso i ragazzi percepiscono la scienza come qualcosa, impara la chimica, impara la fisica e non ti porre tante domande perché tanto resta la verità. Però non è detto che questo sia un atteggiamento produttivo da questo punto di vista. Poi in genere lo pseudoscienziato, e qui sto parlando dello pseudoscienziato in generale perché come vedremo poi il problema è che intanto la scienza moderna ha una data di origine che è l'inizio del 1600 e prendiamo a riferimento Galileo Galilei come punto di riferimento. Però quando si parla di scienza moderna si sta parlando di una serie di valori che sono stati messi in campo come forma di pensiero e che si sono contrapposti a quella che ai tempi veniva chiamata appunto la forma di pensiero magico. Adesso lo vedremo meglio. Poi scaturiscono tutte anche queste questioni. Quindi scienza moderna non significa che in epoche precedenti al 1600 in Europa non ci siano state forme di scienza. Cioè egizi, babilonesi, indiani, conoscevano la matematica, l'astronomia. Quando si parla però di scienza moderna entrano in campo tutta una serie di valori che hanno a che fare in maniera molto stretta con l'evoluzione del pensiero democratico. Perché se ci fate caso, la disponibilità a cambiare in seguito a nuove prove significa sempre mettersi in discussione di fronte a nuovi fatti, saperli esaminare. Questo non significa, no? La prima affermazione è quella che in genere viene messa, viene utilizzata diciamo dallo pseudoscienziato, poi parliamo anche un po' di complottisti e cose di questo genere. Però come è, vedi, siccome tutto è in continua evoluzione allora qualsiasi idea, no? Può essere buona, no? Ma perché non potrebbe essere che? Certo, tutto potrebbe essere che? Il problema è che la scienza ragiona anche sulla base di quanto è non possibile una cosa, ma è probabile. Facciamo l'esempio più semplice. Quanto è probabile che la Terra sia piatta? C'è qualcuno? Adesso mi fate sapere. Lo scienziato lascia sempre aperta la porta, è dubbio. Potrebbe essere che abbiamo preso una grande cantonata. Diciamo quella probabilità è prossima, no? 0,000 è prossima allo zero. Poi noi lasciamo sempre aperta così. Poi ovviamente non tutto è definibile come terra piatta, no? E quindi ci sono anche delle questioni più problematiche che poi si evolvono nel corso del tempo. Togliamoci subito il problema, il dente come si dice, così non ci preoccupiamo. Tanto ci riflettete, qualcuno qui per caso di voi ha in borsa un prodotto omeopatico? Se ce l'ha, poi se me lo vuoi portare qua sul banco facciamo. Poi magari uno pensa che sia omeopatico il prodotto e non lo è, perché magari è un fitoterapico o è un'altra cosa strana, no? Eccetera eccetera. Poi per esempio l'omeopatia, che è una pseudoscienza, però ha anche una sua evoluzione storica. Quindi nel momento in cui nasce questa disciplina alla fine del 1700, ha le sue ragioni di nascere. Questa è una cosa da tenere ben presente, no? Le pseudoscienze, quelle diciamo classiche, diciamo l'astrologia. Poi non so se qua ci sono, mi raccomando, se ci sono negozi di astrologia, vediamo. Comunque l'astrologia, diciamo, è una pseudoscienza, va bene? Però non è sempre stata. Ha una lunghissima tradizione, ha una sua dignità scientifica. Poi c'è stato un momento in cui è entrata a far parte di ciò che noi chiamiamo pseudoscienza perché sono cambiate le conoscenze, no? A disposizione noi abbiamo per valutare certi fenomeni. Avere un approccio creazionista, cioè pensare che il mondo abbia un'origine recente, che io le cose che vedo siano sempre uguali a loro, quindi i cavalli sono sempre cavalli, le specie animali, c'è il prof di scienza naturale che mi può aiutare, eccetera, eccetera. Cioè in genere tutte le rivoluzioni scientifiche hanno un approccio controintuitivo, se ci pensate bene, mentre i primi modi di guardare alla natura sono stati quelli legati al buon senso, quindi il rapporto tra gli astri e la mia persona, no? Gli astri che possono influire su di me è una cosa di buon senso in relazione alle conoscenze del tempo. Ecco, quindi questo ci deve sempre anche aiutare a far capire che non bisogna mai demonizzare se qualcuno ha un'idea che a noi ci può sembrare ingenua o sciocca o irrilevante, perché poi tante idee che sembravano interessanti, intelligenti, poi sono a loro volta state giudicate in questo modo. E quindi, un'altra cosa che lo scienziato non fa, appunto, lo pseudo scienziato non fa e in genere non accetta il confronto con quella che noi chiamiamo la comunità scientifica. Questo, diciamo, è uno degli aspetti che salta subito, diciamo, dovrebbe farci squillare un campanello d'allarme. Quando noi sentiamo qualcuno dire, eh, ho fatto una scoperta rilevante ma io i dati non ve li faccio vedere perché ho paura che la comunità scientifica sia un po' corrotta, no? Poi ci sono le multinazionali, no? Tutte queste argomentazioni strane. Non funziona così. Cioè, nella scienza bisogna accettare il confronto, pur sapendo che è un confronto difficile, dietro ci possono essere tanti condizionamenti, tante, tante, e facendo storia della scienza di questo ci si rende conto. Però il problema è perché il collegamento con la democrazia. Ne parlavamo anche al telefono. Cioè, io non sono, perché non sono d'accordo con l'espressione che la scienza non è democratica, ma in realtà la scienza è la cosa, non solo che ha permesso di sviluppare il pensiero democratico, perché secondo me c'è un fraintendimento su cosa si intende per democrazia. Cioè, intanto la democrazia non coincide con l'espressione di voto popolo, cioè non è solo quello. Cioè, neanche, dice, allora io ho votato e siccome il popolo ha votato e allora poi faccio quello che mi pare. Non funziona così. Cioè, la democrazia è un insieme complesso, sistema di regole, di poteri, di controllo, che hanno tutte le loro importanze. La scienza funziona nello stesso modo. Cioè, la scienza è prima di tutto un insieme, una forma di pensiero, un insieme di regole che vanno rispettate, in cui bisogna avere fiducia. Poi magari queste regole non sono sempre perfette, non funzionano sempre bene. La peer review, no? Cosa vuol dire peer review? Vuol dire che in genere oggi un articolo scientifico viene sottoposto in maniera anonima al referaggio, all'esame di altri colleghi anonimi che lo valutano e fanno le loro osservazioni, oppure non è un sistema perfetto, perché con la specializzazione della scienza si va sempre più avanti in questioni del tutto particolari e specifiche e quindi va a finire che in degli ambienti, ci sono 100 specialisti di una sola materia. Cioè va a finire che si conoscono un po' tutti, no? Quindi mantenere ad esempio l'anonimato non è semplice. Però quello che dico sempre io è, se qualcuno riesce a dimostrarmi che c'è una forma migliore del pensiero scientifico, cioè c'è una forma migliore della scienza, cioè del modo in cui noi arriviamo a determinare se una cosa è più o meno vera, se è prosimile più o meno mo', ecco a quel punto diventa interessante parlarne e discutere. Però ripeto, bisogna avere fiducia in questa cosa. Tutto ciò vale per, quello che vale per la scienza vale anche per la storia, questa è una cosa secondo me che va sempre sottolineata. A volte si pensa che la storia sia il mondo della libera interpretazione, oppure i fatti scientifici e i fatti storici si esaminano nello stesso modo e si arrivano alle conclusioni con le stessi metodi, con la stessa logica. Ovvio nella storia c'è un po' più di margine di variabilità di interpretazione su fatti esistenti, però il tema della negazione dei fatti è identico, così come si negano delle verità in ambito scientifico è lo stesso modo in cui si negano delle verità in ambito storico. Cioè negare l'esistenza di campi di concentramento non è ammissibile in ambito storico, perché quello si chiama negazionismo, perché le prove che noi abbiamo a favore dell'esistenza di ciò è uguale a come parlare della Terra, se è piatta o non è piatta, siamo allo stesso livello, è chiaro. Poi ci sono delle cose un po' più complicate. E quindi secondo me dovremmo insistere molto su quello che è il tema della dimensione pubblica della scienza. Spesso io mi sento, quando chiedo agli studenti, una delle domande classiche dei miei corsi è che cos'è la scienza? mi sai spiegare che cos'è la scienza? La risposta, la scienza è quella cosa che apica il metodo scientifico. Ok, va bene. Che cos'è il metodo scientifico? E lui parte la storiella della, ora non so se c'ho un'altra slide qui, no non ce l'ho, non importa, l'ho preparata per i ragazzi quella. E lo scienziato si fa venire, prima c'è l'ipotesi, poi c'è l'osservazione, poi c'è la verifica, insomma. Poi si fa una conclusione. Domanda, e a quel punto? A quel punto cosa? Ho detto, guarda, è che questi passaggi che tu mi hai elencato, li fa anche un alchimista nel suo laboratorio. Un alchimista medievale o rinascimentale, si fa un'ipotesi e arriva alle conclusioni. Qual è la cosa che fa la differenza? È il punto che in genere non viene detto, è che qualsiasi scoperta, osservazione, conclusione si pensi di avere fatto, raggiunto, va necessariamente sottoposta alla verifica della comunità scientifica, degli specialisti. C'è questa dimensione pubblica della scienza che manca completamente nell'agire dello pseudoscienziato. Poi è evidente chi arriva a sostenere la teoria del complotto ci aggiunge il carico del fatto, ma siccome è tutta una grande macchinazione io non mi posso fidare di niente e così via. Però questo è un punto importante. Il sociologo Robert Merton, famoso sociologo della scienza del Novecento, aveva individuato un po' questi cinque valori portanti della scienza moderna intesa come forma di pensiero democratica, cioè non c'è nessuna differenza tra scienza e pensiero democratico. Solo per dirvi, noi spesso so cosa voi pensate a democrazia, quando pensate a democrazia cosa vi può venire in mente, però insomma diciamo, prendiamo il paese che sempre sta in una democrazia, cioè gli Stati Uniti d'America, va bene? Con tutti i suoi difetti, problemi, va bene? Però io dico sempre, è meglio stare in una democrazia con tanti problemi che stare in una dittatura apparentemente senza problemi. Ci sono queste questioni. Questa cosa non la dice Marco Charles, la diceva un signore, forse qualcuno di voi sarà noto, si chiama Gaetano Saldemini, va bene? Esule antifascista da gli Stati Uniti. Quando gli arrivavano tutti i giovani italiani in America, no? Che lui riceveva e poi dopo un po' facevano, ma sta America non è tutta sta bellezza? No, ci sono un sacco di problemi. Sì, e lui faceva, sì figliolo, ma ti dirai ne conto? La democrazia non è l'età dell'oro, è il mondo migliore possibile che possiamo avere con tutti i difetti che può avere. Questa cosa ovviamente è molto collegata, no? Il tema dell'educazione alla cittadinanza. Quindi vedete, comunicare tutto a tutti, tutti possono concorrere a fare scienza. Nella scienza non ci sono di visioni di… In un laboratorio scientifico, se noi andiamo al CERN di Ginevra, troviamo insieme italiani, francesi, arabi, cinesi, cioè non conta la nazionalità, non ci sono problemi di etnie, non conta la religione in cui crediamo, non contano le differenze di genere. Cioè tutti questi valori vengono da una mentalità scientifica e sono queste le cose che bisogna continuare a insegnare. Perché poi credo che anche i giovani si appassionerebbero poi di più anche agli aspetti strettamente tecnici. Il disinteresse, l'originalità, insomma questi li abbiamo già visti, poi ne possiamo riparare. Ecco, ce l'avevo qua e comunque va bene, ne abbiamo già parlato. Queste sono le classiche slide che si trovano in rete, che però anche si trovano descritte nei manuali scientifici, perché a volte su questo aspetto della verifica, del controllo, insomma è il punto 7 che manca sostanzialmente. Perché questi passaggi, ripeto, li fa un qualsiasi persona che pensa di, che noi magari definiamo pseudoscienziato, ma che pensa appunto di, non funziona così. Ora non so, sì sì, poi ce l'ho, ce l'ho, gli antichi astronauti ce l'ho, ma c'è qualcuno e voi, chi crede, ve la faccio subito la domanda, c'è qualcuno che pensa che siamo gli unici esseri viventi nell'universo oppure no? O pensate che possano esserci altri? Se ci sono degli alieni qua potete interagire, interagire, cioè, diciamo, posso fare, prof, mi aiuti lei che fa scienza naturale, faccio un po' di domandine, va bene, mi sostituisco, c'è qualcuno di voi mi sa dire l'età dell'universo? Non i prof, cioè, sì, sono tutti i prof, però chi si espone? Sì, vabbè, miliardo più, miliardo meno, tanto appunto la differenza ci fa. Siamo sui tredici virgola sette, tredici virgola otto. Al tempo di Galileo si pensa che il mondo abbia sei mila anni. Cioè noi in quattrocento anni, che nei tempi geologici sono niente, abbiamo dovuto fare sto salto epistemologico. Negli Stati Uniti, ancora i sondaggi ci dicono che dagli anni Ottanta a oggi circa il cinquanta per cento della popolazione non crede nella teoria dell'evoluzione. E un quaranta per cento ha un'inclinazione nettamente creazionista. Cioè pensa che l'uomo sia una creazione recente uscita dalle... Capite? Allora tutto questo non c'entra... Galileo ci ha insegnato che scienza e religione sono due ambiti separati e complementari. Cioè uno può avere tutte le credenze che vuole e essere tranquillamente scienziato. Non c'è nessun problema. Però il fatto che ad esempio per manga questo atteggiamento creazionistico ci pone tutta una serie di interrogativi, ad esempio educativi sull'istruzione. Come mai una delle nazioni più avanzate del mondo e c'ha le migliori università, ci sbandierano sempre nel graduatorio e poi mi ritrovo a Bologna al centosettantesimo e prima c'è? E come mai il cinquanta per cento degli americani sono creazionisti? Cioè con tutta quella potenza dovrebbero avere zero creazionisti, no? Quindi vuol dire c'è qualcosa che non funziona tra il sistema dell'istruzione d'elite e l'istruzione pubblica che infatti negli Stati Uniti non va molto bene. Quindi quando anche parlo del fatto che noi diciamo, no? Della nostra scuola, per quello che vedo io, i nostri studenti quando vanno all'estero hanno sempre degli ottimi risultati. Quindi vuol dire la nostra scuola comunque ha qualcosa che funziona ancora. Però ci portiamo diesmo un po' di difetti che sono appunto su scala globale da questo punto di vista. Ma che di voi pensa che in questo momento ci siano degli oggetti volanti che ci stanno spiando da una cinquantità d'anni a questa parte? C'è qualcuno che pensa davvero questo? Io faccio parte del Centro Italiano di Studi Ufologici, quindi ve lo dico subito, non vi fate problemi. Ancora in più, qualcuno di voi pensa che gli alieni siano venuti nel passato e hanno lasciato le tracce del loro passaggio nei monumenti dell'antichità e hanno costruito ad esempio le piramidi? Qualcuno lo pensa? Ci sono persone che ci fanno trasmissioni televisive su questi argomenti, no? Allora sono tre ordini di problemi che non stanno insieme, perché in genere quando uno dice, no guarda sta teoria degli alieni venuti nel passato non funziona perché non abbiamo le prove, la risposta è, ma te non ci credi nella vita intelligente dell'universo? E uno gli devi dire, ma non c'entra niente, no? Sono due piani del discorso. Ecco, nella pseudoscienza in genere si tendono a mescolare i piani del discorso, si tende a fare molta confusione tra il modo in cui opera la scienza, tra quello che è il nostro rapporto con le credenze, qual è il rapporto con l'immaginazione e così via. Quindi il discorso, adesso vado rapido, qui gli studenti si trovano di fronte a questa realtà, che è una realtà già specializzata, la fisica, no io sai, mi piace di più la poesia, no no no, io vado a fare lettere perché proprio io la matematica appunto non la capisco, persone che si vantano di non sapere la matematica e così via. Poi ovviamente ci sono i paradossi, come dico sempre io al mio studente ideale di filosofia, che ovviamente sa più o meno chi è Dante, diciamo, c'ha un'idea, no? Uno dice Dante, sì, sì, ok. Kant, no? Però se uno gli dice, mi dici che cos'è la termodinamica? E lì sembra di avergli richiesto, è quasi un'offesa personale, cioè perché la termodinamica? Ma io non la capisco, la scienza, che c'entra? Cioè ci sono delle idee appunto, ci sono delle forme di, la termodinamica non è, per capirla non c'è bisogno di studiare la fisica all'università, si tratta di impostare il discorso in un certo modo. Però ecco, qui c'è una realtà di divisione fra le culture che però noi ritroviamo sulla scuola, perché non esiste storicamente, si è sviluppata nel corso del tempo e se noi andiamo a guardare il pensiero dei grandi scienziati non la ritroviamo mai. Questo è un altro problema appunto che pensavo di far vedere meglio domani ai ragazzi, ma insomma, tanto le cose poi sono sempre mescolate fra di loro, ma per voi Giacomo Leopardi è solo un poeta? Io per esempio insisto su un punto, se uno non conosce la formazione scientifica di Leopardi non comprende neanche la poetica di Leopardi. Però io vorrei sapere quanto Leopardi viene fatto nelle scuole in cui non si analizzano solo le poesie, la metrica e non si fa vedere il complesso con il pensiero che c'è dietro. Questo però vale anche per gli scienziati. Una delle cose, visto che prima si parlava di Einstein, io penso di potervi dimostrare che Einstein ha passato più tempo della sua vita a suonare il violino che non a studiare fisica. Perché Einstein suonava il violino, aveva una formazione anche musicale. Quindi ci sono tutta una serie di intersezioni che in questo mondo già specializzato non vengono fuori. Allora secondo me dovremmo, diciamo, questo mondo specialistico lasciarlo un po' di più all'università. Tenendo fermo che però anche all'università ci sarebbe bisogno di maggiori corsi di storia e filosofia della scienza e storia della scienza. In questo senso la storia della scienza diventa importante. Diventa importante che ci aiuta a capire non solo l'evoluzione delle questioni e dei problemi, ma da dove è venuta fuori la scienza moderna e perché si sono costruiti quei valori fondamentali che abbiamo visto prima. Perché quei valori nascono in un mondo che è completamente diverso dal nostro. Questo è un testo che Paolo Rossi, un famoso storico della filosofia della scienza, la nascita della scienza moderna in Europa è uno dei suoi classici, queste sono coordinate di riferimento per inquadrare. Però tornando a quello che si diceva prima appunto. Quella tabella che vi ho fatto vedere la si capisce molto meglio se noi la scienza la raccontiamo storicamente. Perché è dall'evoluzione storica della scienza che comprendiamo cosa c'era al tempo di Galileo. Al tempo di Galileo una delle forme dominanti di pensiero è il pensiero magico. Non c'è solo la polemica con l'aristotelismo che non è poco, perché i seguaci di Aristotele dicevano, lo ha detto Aristotele, ips ed icsit e quindi non si mette in discussione. Una cosa inammissibile nel pensiero scientifico. Però quando si parla di mondo magico, si parla di un mondo precedente alla nascita della scienza moderna in Europa che domina tutta la cultura europea del 4 e 500 in cui ad esempio c'è un personaggio come Cornelio Agrippa che scrive un testo che si chiama La filosofia occulta che dice queste cose. La conoscenza non è per tutti, è solo per pochi, è solo per gli eletti, è solo per chi ha un dono, solo chi ha un dono può accedere alla conoscenza. Quindi profeti, eletti, veggenti, questa è una cosa pensate a livello popolare quanto ancora oggi è diffusa questa cosa qua. Quindi vedete, solo per voi figli della dottrina e della sapienza abbiamo scritto quest'opera, scrottate il libro, eccetera, eccetera, eccetera. Galileo insieme a lui, Cartesio, Leibniz, Bacone, insomma tutti i protagonisti della scienza e della filosofia moderna, anche questo è un altro punto importante. Andrebbe più insegnata la storia della filosofia in relazione alla storia della scienza perché spesso si fa questa filosofia teoretica dove appunto si spiega Kant, ma non si spiega che Kant è stato uno scienziato anche. Quindi si torna sempre allo stesso problema. Vedete, quando Galileo fa le sue scoperte col cannocchiale e scrive il Siderio Snuncius, lo pubblica nel marzo del 1610, iniziano le prime critiche, poi inizieranno le polemiche da parte della Chiesa e così via perché vi mette in discussione l'autorità. Lui diceva, ma guardate, intanto chiunque di voi può vedere le cose che ho visto io, perché basta che si costruisca uno strumento come l'ho costruito io e io ti faccio vedere come l'ho costruito. Non lo tengo chiuso in un libro segreto per pochi. Tutti quelli hanno fatto le mie stesse osservazioni, hanno visto che intorno a Giove ci sono quattro pianetini che ruotano, che poi lui chiama i pianeti medici in onore ai medici eccetera eccetera. Quindi è questo aspetto pubblico della dimensione pubblica dell'autorità e quindi che la scienza ha una dimensione collettiva che non è fatta da singoli, non ci sono gli eroi della scienza, poi noi tendiamo a fare gli eroi, i grandi personaggi, ma la scienza è un'impresa comunitaria, collettiva, è fatta da tutti, è il contributo di molti che avanza e quindi questo è tutto ciò che ha a che fare la sua democrazia. Altro problema, spesso gli studenti recepiscono allora intanto a scuola, anche qua, se poi diciamo volete darmi qualche smentita, datene, ma insomma in genere quando si spiega la chimica, la fisica o le scienze non si fa, non c'è niente dietro, non c'è storia, non c'è tempo di farlo, comunque lì restano dei nomi, delle formule, la voisiè, qui abbiamo i padri fondatori della fisica. Archimede, Keplero, Galileo, Newton, Einstein, Bohr, Heisenberg, come se fosse una linea continua da Archimede e Heisenberg, tutti a pensare lo stesso problema? Di cosa pensavano? A cosa? Meccanica, atomi? Cioè tutti sulla stessa linea? Sono solo fisici? Ve ne dico solo una, l'atomo, il fatto che gli atomi esistono, la comunità scientifica l'ha approvato solo alla fine del 1800, inizio 1900, per molto tempo l'atomo è stato ritenuto una roba, così, una fantasia, quindi bisogna stare attenti a presentare anche nei manuali, è perché c'è stato Democrito, poi è arrivato Boyle, poi è arrivato Dalton, quella è una storia falsata, è una storia scritta pensando che gli uomini del passato avessero in mente i problemi che abbiamo noi oggi e che abbiano sempre riflettuto su quelli e quindi noi ricostruiamo questa linea retta in cui poi ci troviamo dentro, ora lasciamo perdere Keplero, soffermiamoci su Newton, ma Newton in questa linea retta ci sta bene per alcuni versi, ma molto male per tutti gli altri. quiz, Newton, cosa, io dico Newton, la prima cosa che vi viene in mente? Voce alta perché devo passare, ma non mi posso allontanare dalla telecamera, capito? La mela, che poi non è neanche vera sta storia, non so se lo sa, ma c'è un aneddoto, però la mela insomma, io non so perché a me viene in mente un giocatore, ma c'era un calciatore, si chiamava la mela, ma questo non conta nulla. La mela, poi dopo la mela che gli sarebbe caduta in testa, ma non gli è caduta in testa perché è una roba, eccetera, eccetera. Poi, gravità, gravità, infatti, no, gravità. Queste sono le due cose, mi dicono gli studenti, in genere. Quando gli dico Newton, no, uno si mette sul lettino lo psicanalista perché le mie lezioni sono una specie di seduta psicanalitica, no, perché uno si mette lì. Allora, la gravità e la mela. Era un alchimista. Quanti, sinceramente, anche per capirsi, quanti di voi sapevano che Newton si era occupato di studi di alchimia per tutta la sua vita? Cioè, alcuni di voi restano sorpresi nel scoprire che uno dei grandi protagonisti della scienza moderna ha passato più tempo a studiare alchimia che non fisica. E allora, perché non, cioè, se noi raccontiamo solo il pezzettino del Newton della meccanica, sì, non è che si raccontiamo una cosa sbagliata, tra l'altro Newton ci è stato tirato per i capelli a fare la gravità perché l'ha concepito un po' come una perdita di tempo rispetto agli studi più importanti che lui pensava di fare. Allora, qui bisogna capire, no, in quella linea retta il personaggio Newton storico chi è. Io devo dire che quando lo racconto storicamente, in genere lo studente mi dice, certo, se me l'avessero raccontato così, forse mi sarei appassionato un po' di più anche alla fisica o cose di questo tipo, perché non è un buon servizio alla scienza far pensare che la scienza sia sempre quella cosa perfettina di formule, di nozioni, dove uno non si deve porre mai dubbi, è complicata. E ha avuto un'evoluzione complessa dove per mettere a fuoco i valori che abbiamo visto prima ci è voluto tempo. Newton oggi noi lo definiremo, definiremo un creazionista, perché Newton è una persona che pensa che il mondo abbia 6.000 anni, che tutto ciò che dobbiamo sapere della creazione del mondo è scritto nel libro della Genesi, che tutto ciò che potremmo sapere della fine del mondo va interpretato con lo studio delle profezie bibliche, in particolare l'Apocalisse di San Giovanni, cosa lui pensava di fare in maniera scientifica, Newton, vedete l'aspetto della modernità qual è, è che Newton non sopporta i veggenti, Newton non è uno di quelli che dice che la rivelazione sia per un contatto diretto con Dio e cose di questo genere. Bisogna studiare. C'è un codice dentro le profezie che va esaminato. Uno studioso italiano, anni fa, ha dimostrato che le regole dei principi matematici di filosofia naturale, il testo del 1687 in cui Newton per la prima volta formula la teoria della gravità, sono identici alle regole con cui si interpretano i testi profetici. È lo stesso metodo, perché per Newton, a differenza di Galileo, lo stesso metodo si applica al libro della Bibbia e al libro della natura, invece Galileo sosteneva che c'è il libro della natura e poi in campo religioso, sostanzialmente ognuno crede a quello che vuole. Quindi Newton con la sua formula sulla gravitazione universale pensa solo di aver descritto il funzionamento del mondo fra queste due fasi, fra la creazione e la fine del mondo. Sorpresa, non pensa di averla scoperta la gravitazione universale, pensa di averla riscoperta, perché Newton è uno di quei personaggi che crede alla cosiddetta antica sapienza, cioè che prima del diluvio ci fossero stati tutta una serie di uomini che avevano una serie di conoscenze molto più sviluppate di quelle attuali e che poi in qualche modo si sono conservate attraverso Noè e i figli di Noè. Infatti Newton dice esplicitamente che la gravitazione universale l'ha scoperta Mosè, è stato lui a scoprire prima. Allora questa non è farneticazione pseudoscientifica, questa è storia. Perché Newton studia osittanto i testi alchemici? Perché è convinto che nei testi alchemici, soprattutto quelli più antichi, ci sia il messaggio originario della religione primitiva, primaria. Lui poi è anche antitrinitario, riuscirà sempre a Siamo sicuri che il tema delle forze alchemiche non abbia nulla a che fare con la forza? Perché per Newton la gravità è Dio presente in tutti i momenti della realtà. Lui ce l'aveva a morte con i cartesiani perché pensava che i cartesiani avessero costruito un universo freddo. Solo materia e movimento, Dio aveva messo in moto tutto. Infatti qualche studioso giustamente ha detto che Newton non è stato il più grande scienziato dei 600, è stato il più grande teologo dei 600. Perché la sua è una filosofia naturale di matrice religiosa, che ovviamente poi ha un pezzo, quello della meccanica, che è rimasto... Allora qual è l'errore che compie il classico diciamo pseudoscienziato, divulgatore pseudoscientifico di sta roba qua? Dice, caspita, Newton ha studiato l'alchimia, allora l'alchimia deve essere una cosa seria, perché l'ha studiata Newton. No, Newton ha studiato l'alchimia perché ancora in quel momento per lui era una cosa seria. Poi invece non lo è stata più. Ma se noi questa cosa non la raccontiamo, vi dico solo questo, che per molto tempo i manoscritti alchemici di Newton sono stati rifiutati dalle più grandi istituzioni, inglesi e americane, perché tutti avevano paura di far vedere questo Newton. Uno di coloro che vi comprò all'asta è un signore, si chiama John Maynard Keynes, cioè uno dei più grandi economisti del Novecento, no? Keynes, Keynes. Quindi vedete, Newton si occupa di cronologia degli antichi regni e questo è uno dei manoscritti alchemici di Newton in cui lui cerca di capire come si può fabbricare la pietra filosofale. Ora voi di Harry Potter non vi parlo, però se vi interessa si può parlare anche di Harry Potter, perché pensavo di parlarne più con i ragazzi di Harry Potter e cose del tuo genere. Ancora un po' di tempo? Un pochino? Sì, sì. Così faccio, arrivo alla parte dei quiz. Andiamo un po' più rapidi. Allora, è ovvio, no? E qui siamo una mezz'ora insieme, no? Sono solo degli spunti, ci vuole tempo per approfondire queste questioni, bisogna studiare, bisogna rifletterci. Però, secondo me, quello che abbiamo detto finora è la premessa per entrare dentro bene il modo con cui poi avvicinarci a questi problemi. Perché se noi il tema delle fake news, della pseudoscienza, lo affrontiamo sempre in tempo reale, arrabbiandoci con il nostro vicino di casa perché sul terrazzo ci ha detto che il virus è stato fabbricato in un laboratorio, cioè entra in una discussione che è impossibile da sostenere. Perché se il mio interlocutore è su una lunghezza d'onda diversa, non c'è niente da fare. Ma questa lunghezza d'onda non si stabilisce, ripeto, con i dati tecnici. Il mio interlocutore deve avere fiducia che tutto quello di cui abbiamo parlato prima, i valori della scienza, come si è costruita la scienza, dove viene la scienza, sono in modo migliore possibile e noi abbiamo per arrivare a una costruzione di una verità plausibile e condivisa. Poi possiamo sbagliare? Perché anche la democrazia, no? Perché poi c'è quest'idea, no? Che la democrazia ci debba risolvere tutti i problemi. Invece è una cosa complicata, difficile. Ma è sempre meglio avere la legge per tutti, uguale per tutti, che non avere la legge uguale per tutti, di principio, no? Quindi il tema dei valori, dei principi, perché è tanto importante da questo punto di vista. Realmente vi dico queste cose non perché ce la assessore, è perché sono 30 anni che dico queste cose, indipendentemente, perché questi sono patrimoni di tutti, no? Perciò andrebbero sviluppati all'interno delle ore di educazione cifra. Sono tre livelli diversi. Nella bufala può accadere chiunque di noi, è normale, cioè una singola notizia, è ovvio che noi dovemmo controllare tutte singole notizie, ma non abbiamo tempo. Allora dobbiamo ricordarci una cosa, che noi non dobbiamo mai sentirci più intelligenti degli altri, perché tutti noi comunque sempre siamo soggetti a pregiudizi. Il famoso bias, il pregiudizio, lo esercitiamo comunque. Cioè, ieri sera io ero lì che soffrivo guardando la Fiorentina, stava perdendo 3-0 e l'arbitro era ovviamente uno pagato da qualcuno che era stato mandato per, no? E quello è il pregiudizio, no? Poi uno razionalizza e dice faceva un po' schifo anche la squadra, no? C'è sempre il pregiudizio dietro. Quindi una singola notizia non ci deve preoccupare. Questa notizia è uscita il 26 ottobre 2016 su News TG24. Posso muovermi un po'? No, perché qualcuno la vuole commentare? Scusate la telecamera, no? Ma c'è qualcuno che vuole commentare? Ci nota qualcosa che non va di strano? Cioè, uno nota che... Siamo sicuri che sia Sky o News, no? Ok? Poi tutto a posto per il resto. È tutto a posto, no? Umberto Eco vota sì al referendum. Dichiarazione è chi voterà no è un imbecille e i grillini sono una legione di imbecilli. Ora qui a noi non interessa interrogarci se ha detto una cosa, però a qualcuno... Allora, questa è una notizia uscita e che ha suscitato un putiferio sui social che si sono messi a discutere questa affermazione di Umberto Eco, va bene? Pro, contro, insulti, di tutto, di più, va bene? Perché? Perché ovviamente chi in quel momento era contro i Cinque Stelle ha detto Ah, i Cinque Stelle sì, l'ha detto Umberto Eco, vai con i Cinque Stelle, no? Giù, senza minimamente pensare a riflettere. Ora, quella che ha notato lei, cioè mi sembra addirittura un particolare minore rispetto a quello che si dovrebbe notare. Prima di tutto. No, scusate, ma vi sembra... Come... cioè, ma Umberto Eco... Che fino aveva fatto Umberto Eco? Cioè, io l'ho anche conosciuto, non era un barbone, eh? Non è Umberto Eco. Cioè, uno se ne dovrebbe rendere conto che non è Umberto Eco, no? Cioè, qualcosa che non va in questa notizia. Proprio quello che non va è che Umberto Eco era già morto. Va bene? Però, un classico, no? Io la raccomandazione faccio sempre agli studenti, prima di condividere, di cliccare, di... Calma, calma, calma. Che poi sono soldi quelli che girano, no? Con i clic. Però, vedete, c'è sta... Ora, vi faccio solo vedere questo, perché a lezione poi faccio vedere l'analisi di tutti i dibattiti, le cose che sono state dette, e così via, no? E così. Quindi, il bias ce lo portiamo dietro di natura evolutiva. Cioè, è un modo in cui la natura ci ha programmato per sopravvivere in determinati ambienti, che non sono più quelli della società contemporanea, per pensare in maniera veloce, per rispondere in maniera intuitiva, ma noi oggi siamo in un mondo complesso, dove abbiamo la scienza, che è un sapere controintuitivo, che ha bisogno di tempo, e quindi, no? Anche in questi due anni di discussioni su coronavirus, no? Eh no, ma il vaccino l'hanno fatto troppo veloce, no? Cioè, tutte affermazioni prive di una logica, se uno ha un po' di basi e capisce come funziona la scienza. Però, ecco, ricordiamoci che siamo sempre sottoposti tutti continuamente ai pregiudizi. Quella è una cosa importante. La scienza, o un modo di pensare scientifico e democratico, cerca di aiutarci a limitare il più possibile questi pregiudizi, che, ovviamente, no? Ogni nostra risposta individuale spesso può essere sbagliata, perché invece va confrontata, va messa in relazione con gli altri, appunto va condivisa. Va condivisa poi secondo determinate regole di un certo tipo, perché, ovviamente, se io sono un complottista, sono un antivaccinista, la vado a condividere nei siti, nei blog di antivaccinisti, e quindi è ovvio che mi ritrovo e dico, ah, caspita, visto, anche loro la pensano come me, perché quindi c'ho ragione. No, perché loro non stanno rispettando quelle regole di base. Allora, qua, ora qui ho, nel senso, questa è talmente, cioè, voglio dire, non vi faccio la domanda perché mi sembra palese ed evidente che qui, in questa illustrazione, voi cosa ci vedete? Un basso riviello. Ma cosa c'è in questo basso riviello? Allora, io ve la faccio vedere così, perché di solito è così che viene fatta vedere. Si vede chiaramente, no? C'è un uomo a bordo di un veicolo, tipo motocicletta. È chiaro, no? Cioè, questo è indiscutibile, che sia un alieno rappresentare, cioè, un qualche cosa, no? È una delle tante testimonianze degli alieni che sono venuti nel passato e hanno lasciato i loro... Qualcuno dice? Eh, no, eh, no. Perché io potrei andare avanti e condizionarvi dicendo, no, insistere talmente tanto e farvi credere, appunto, sì. Perché, diciamo, se uno insiste e inizia a dire, sì, ma effettivamente sembra uno a bordo di un veicolo. Infatti, qui sulla parte destra, questi saranno i motori. Ma qui al naso sembra addirittura che abbia una specie di respiratore, no? Si può dire di tutto, di più. Infatti, questa è una delle famose famosi reperti dell'antichità. Qua è un po' stilizzato, si vede ancora meglio. Quindi si vedono i motori qua, qua dietro, il pedale, l'acceleratore. Poi in rete trovate di tutto, l'acceleratore, meccanica, cose. Forse ce l'ho anche? No, vabbè, comunque. Vedete? Allora, qui ovviamente c'è una storia infinita sul tema degli astronauti nell'antichità. Se mi interessa, ho scritto anche un libro intero sui misteri degli antichi astronauti. Però vedi, anni 60, no? Quegli anni anche un po' dell'occulto, Peter Colosimo, no? Un'astronave nella pastoria diecimila anni fa, gli egizi, eccetera, eccetera. E qui Eric Von Daniken è uno che su questa storia degli alieni nel passato ci ha fatto miliardi. È il classico pseudoscienziato. Però questi sono testi che vanno a ruba. Un divulgatore scientifico non è in grado di competere con le vendite di questi libri, che sono tradotti in tutto il mondo, in tutte le lingue. Una volta uno studente iraniano mi ha portato a versione iraniana. Cioè, capito? I modellini in rete rifatti dell'astronave, dell'alieno. E quindi ci si convince che questa è una teoria plausibile. Ma, appunto, chi è che la sostiene questa teoria? Sono archeologi? Intanto, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Siamo a Palenque. Le città perdute dei Maya, riscoperte nel corso dell'Ottocento. Zona dello Yucatan. Vedete, Palenque è un po' là, sulla sinistra, verso il Messico. Cominciamo un po' a capire dove siamo. In che contesto siamo. Andiamo a vedere dove è stata trovata questa pietra tombale. È stata trovata nel tempo delle iscrizioni di Pakal il Grande, cioè di un re Maya che noi sappiamo essere vissuto nel Seicento dopo Cristo e negli anni Cinquanta un archeologo ha scoperto appunto le scale che portavano sotto la piramide in fondo a questo sepolcro e, vedete, eccola qua, la pietra tombale. Giustamente si è fatto anche fotografare dentro mentre la tirava su l'archeologo. E quindi sappiamo che questa è la pietra tombale di un re Maya si chiamava Pakal vissuto tra il 603 e il 683. Va bene? E quindi appunto. Allora, qual è il problema? Che è quello a cui veniva accennato in inizio dell'incontro? Una persona senza nessuna preparazione specifica inizia a occuparsi di archeologia Maya e dice ma qua secondo me mi sembra di vedere un astronauta e ci costruisce sopra una veramente affascinante no? Perché a chi non piace l'idea che siano venuti gli alieni nel passato che hanno costruito e qui di film ne possiamo citare a centinaia no? Ora non inizio a citare come faccio a lezione tutti i film però il povero archeologo Maya che è stato lì che li ha studiati per 40 anni 50 ha studiato solo quelli tutta la cultura e che fa un po' di divulgazione e poi si vede le trasmissioni sui satellitari antichi astronauti no? E' disperato perché dice ma che c'è quindi io che ho studiato a fare 50 anni vi spiega appunto guarda intanto Fondenichem la pietra tombale intanto va vista così e questo non è un raggio spaziale è semplicemente la simbologia del Maya che fa vedere come il defunto passa nel regno dei morti va bene? Ora qui a noi interessa solo questo però è ovvio no? A una persona la persona viene più attirata da capito? una teoria affascinante che poi mi mette in discussione le storie dell'umanità poi si fa la polemica con la chiesa no? Poi ci sono quelli iniziano a dire che anche nella Bibbia ci sono gli alieni no? Vi conoscerete bene tutti questi personaggi tutto possibile non c'è un problema però dovremmo dare poi il credito allo specialista che ha studiato e qui lo specialismo allora diventa importante ma l'importante per noi che dobbiamo capire come funziona la scienza non è essere noi specialisti cosa dobbiamo essere specialisti in geologia fisica archeologia medicina dobbiamo essere specialisti su tutto per capire come funziona la scienza? no dobbiamo capire come funziona la scienza e quindi quando ho la teoria degli antichi astronauti la guardo al cinema perché mi diverto ma poi leggo il libro dell'archeologo non leggo il libro e questa è la pseudoscienza no? che è un insieme più non è la singola notizia è un insieme più strutturato come la l'omeopatia come appunto gli alieni nel passato come l'astrologia e così via poi c'è ovviamente il livello ultimo e appunto perché noi qua ci vediamo l'astronauta? questo fenomeno in psicologia si chiama pareidolia che è la tendenza innata che ognuno di noi ha lo sappiamo si è sviluppata su basi evolutive che ci porta a dare un significato a immagini anche quando queste immagini sembrano non avercelo quindi qua voi ci vedete un cane un drago quello che volete e quindi uno qua ci vede con gli occhi del presente l'astronauta soprattutto se uno gli dice che è un astronauta effettivamente sarebbe possibile poi per finire ma qui ora finisco non ci dilunghiamo altro il livello massimo è quello dell'etereo del complotto qua fra di voi c'è qualcuno davvero che pensa non sia mai stato sulla luna? allora come dico sempre io la domanda è lecita per tutte le domande in ambito scientifico storico sono leciti perché uno non dovrebbe avere dei dubbi poi però questi dubbi messi di fronte a diciamo al modo in cui vengono presentate appunto le prove soprattutto chi le ha dette questo è diciamo l'inventore principale della bufala lunare sto Bill Kaysing che era uno dei tanti dipendenti in una delle tante ditte che lavoravano nel progetto nei progetti Apollo si parla di circa 500.000 persone uno un tecnico no era un amministrativo tra l'altro e ha iniziato a dire no ma io ho trovato dei documenti che ci sono delle cose strane e poi ho visto delle carte cioè di mezzo Stanley Kubrick gliel'hanno fatto fare a lui aveva appena fatto 2001 di Sia nello Spazio e monta però c'era già prima un po' no e monta tutta questa storia con un sacco di apparenti prove che uno che ha per esempio quelle delle fotografie basta veramente delle conoscenze elementari di fotografia per smentirle no eppure tutte queste cose vanno avanti e direi che siamo alla fine finiamo con queste due citazioni per ricordarci che quindi la scienza non è un mondo a sé di nozioni e di formule è qualcosa di molto complesso che ha un'evoluzione storica e che ha strettissime relazioni con la filosofia la poesia la letteratura la politica l'economia e che soprattutto tutti i più grandi scienziati hanno detto che la scienza senza l'immaginazione non va da nessuna parte qui Einstein e Marie Curie non ve le sto a leggere ma sono bellissime no sono tra colori che pensano che la scienza abbia in sé una grande bellezza uno scienziato nel laboratorio non è soltanto un tecnico perché quello è il rischio se uno sa solo le formule non è uno scienziato è un tecnico e non è un caso che purtroppo ci sono anche scienziati che abbracciano idee pseudo-scientifiche perché non sono scienziati ci sono dei tecnici però l'immaginazione è importante per il progresso della scienza ma ovviamente non basta perché poi non tutte le cose che immaginano diventano vere no? e basta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti